Danilo Tellaroli, terzino destro del Boiano, questa pausa per te è buona? Che vi serve per tornare meglio alla ripresa oppure volevate giocare e tornare subito in campo per affrontare il Treppini, prossimo avversario dopo la pausa? Sì, noi veniamo da un periodo di forma eccellente, le prestazioni ci sono, purtroppo i risultati un po' meno. Però ottime prestazioni, vorremmo giocare subito il prima possibile, però rientreremo per conquistare subito i tre punti e allontanarci da quella che è la zona play-out. A livello personale il mister poi ti dà comunque spazio, stai giocando molto, tante partite per te, è sempre positivo, quindi anche per te questa è una nota di merito? Sì, sì, indubbiamente, il mister mi dà molta fiducia, poi è un progetto fatto per i giovani e non sono solo chiacchiere perché stiamo mettendo tutto quanto in pratica, stanno mettendo in pratica e per fortuna mi fa giocare spesso e sto cercando di dare il meglio di me. Grazie. Grazie. Grazie.